La caratteristica del Teatro Valle è senza dubbio la discrezione. È un teatro seminascosto. Ci si può passare davanti senza accorgersi della sua esistenza. La facciata del Valle prospetta su una strada troppo stretta per consentirne un'adeguata visione. Valadier, che la disegnò, contava su un allargamento della via, che il Tribunale delle strade, anno 1822, non volle concedere. Questa è la sala del Teatro Valle. Questo è anche il cuore del nostro intervento di restauro, che si articolerà sia in un aspetto decorativo e sia in un aspetto tecnico funzionale. Lo stato conservativo della decorazione della sala, quando abbiamo iniziato a fare le indagini propedeutiche al progetto di restauro dell'intero teatro, sono apparse subito molto critiche, perché nel corso dei secoli praticamente si sono sovrapposti varie ridipinture, tese più a mascherare le lacune, le cadute di colore, che non ad effettuare restauri veri e propri. Siamo sul palcoscenico del teatro. Verrà pesantemente restaurato e ristrutturato in maniera molto radicale. Il progetto di restauro farà riferimento alla fase di Giulio Podesti, quindi verrà riproposto questo grigio molto chiaro, con questa velatura azzurrina, e gli stucchi di legno saranno semplicemente puliti. Grazie Grazie Grazie